Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, oggi spugniamo lo wizard nel server di Ligarad Gaming però prima vorrei salutare Mr.FraZero1 che mi ha chiesto di salutare... Benvenuti a tutti la tab Ligarad Gaming, ciao! Riuscirà un video anche sul suo canale, quindi rega andatelo a seguire oggi spugniamo gli wizard Stavo cercando di dire ciao, ciao Mr.FraZero1 Stavo cercando di far la mia idro però mi ha interrotto, ciao! Comunque! Ciao! La mia armatura è interro! No! 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 Siamo in grado di side e finiamo! Siamo in grado di semi! E' una nuova! Non puoi morire! Siamo in grado di redditi! Ma questa è la nuova! Vai l'ultimo sprint! L'ultimo sprint! Ma mi porta! Che buona lentura! Ho la stella del nether! è la stella del nether nel mio lavoro mi prendo io anche i diamanti sono i miei diamanti di dritto non mangi un cammè bro l'ho fatto ancora qualcosa che l'ho fatto dai no no tu prendi quegli altri prendi... me li hai presi tutti aspetta vi dammi i miei due diamanti ti do il piccoglio per scavarli bene ma tutti tu li hai presi oh vatti a scavare quelli la vabbè no vabbè questo qui è il video più bello del mondo